Nello spareggio per l'ultimo posto in classifica, Caserta perde contro i rieti al photo finish e in pratica rimane da sola in fondo alla classifica. Un déjà vu perché questa è l'ennesima volta in cui Caserta arriva a giocarsi nei finali di partita punto a punto e li perde punto a mente. In una gara in cui è rimasta sempre sul filo dell'equilibrio con break e contro break, Caserta era arrivata nelle condizioni di poterla vincere questa gara perché a meno di 5 minuti dalla fine era in vantaggio di 5 punti, 57 e 62, poi ha subito negli ultimi minuti un parziale di 12 a 5 che ha consegnato la partita. I rieti che da questo momento in poi potranno andare anche sul mercato per rinforzare il roster in particolare puntando su un ecostrano unitario probabilmente prenderanno un americano e quindi diciamo la salita e la scalata in classifica di Oesert diventa ancora più complicata. In fase di premessa va fatto comunque i complimenti al Ciro dell'Imperio che si è trovato suo malgrado ad affrontare una settimana non facile, si è assunto delle responsabilità forse neanche dovute ma si le è assunte e credo stasera sia stato forse il migliore in campo della Juve Caserta. Per il resto stamattina riflettevo che questa stagione mi ricorda tantissimo una stagione sfortunata per la Juve Caserta, fu l'anno in cui fu esumerato Molin, preso Markoschi e poi la squadra fu affidata a Enze Esposio. Non voglio ricordare come finì quella stagione, mi auguro che non facciamo la stessa fine. Per il resto è anche difficile commentare queste gare perché è un déjà vu, a me abbiamo visto che questa è una squadra che arriva nei momenti decisivi e poi puntualmente perde la partita. Contro una squadra che, lo ricordiamo, era l'ultima in classifica insieme alla Juve Caserta in una partita in cui quasi sicuramente Caserta la doveva giudere prima perché in pratica ha dato 71 tiri contro 55, però ha avuto delle percentuali pessime. Nel mercato a cui ovviamente Rieti andrà, Caserta c'è già andata, però ha pescato due giocatori che al momento non è che stanno apportando quella leadership e quel miglioramento che si augura in particolare nel ruolo di extracomunitario o di comunitario. Budrax stasera è stato di tutti i vanesceni doveva essere i giocatori che li doveva portare i 10 punti. Alebegovic qualcosa ha fatto, gli va dato comunque un po' di tempo perché è fermo da maggio in pratica questo giocatore, però nel mercato Caserta si è indebolito perché ha inserito due giocatori di cui uno ha bisogno di tempo e un altro non sta dando il contributo. Era stato preso in uno spot molto importante, è quello che poi doveva fare la differenza. Melli invece ha perso tre giocatori, due per infortuni, Moffa e Zampogna tra l'altro l'unico playmaker e stasera l'assenza di un playmaker nelle fasi conclusive della partita si è vista tutta e Romano perché c'è tutto sul mercato. Quindi Caserta ha un giocatore in meno e due giocatori che erano stati presi per alzare il tasso tecnico di questa squadra e soprattutto i dice che non stanno dando il loro contributo per diversi motivi. Come se ne esce da questa situazione è difficile dirlo perché ormai anche la settimana con così approcciato questa partita importantissima lascia più di qualche perplessità sulla capacità di questo gruppo di invertire. La partita della rutto questa potrebbe essere una partita importante per non dire sboltare la stagione ma per dare comunque un segnale di fiducia e di ottimismo che puntualmente è svanita negli ultimi minuti di questa partita. Da questo momento in poi ci sono delle dinamiche che probabilmente noi non conosciamo e diciamo adesso bisogna fare quadrato, capire come uscirne, che cosa fare ma sicuramente anche i giocatori adesso devono incominciarsi a prendere un po' di responsabilità. Da Rosario Pascarella è tutto, alla prossima partita di Juve Caserta con Goal 2.